Una delle domande che mi fanno più spesso le persone prima di fare il corso di apprendimento è ma quando avrò fatto il corso di apprendimento dovrò totalmente cancellare il mio vecchio metodo di studi e adottare quello nuovo? O posso integrarlo un po' alla volta? La risposta è semplice, dopo il corso di apprendimento è la tua vita precedente che viene cancellata, la tua vita inizia dal momento in cui fai il corso, il resto viene tutto quanto buttato via. Io sono il tuo nuovo padre e madre e fratello. In realtà dipende da diversi fattori. Diciamo che è possibile e la situazione più comune è quella di integrare soltanto alcune tecniche e farlo un po' alla volta. Poi ci sono i pazzi furiosi come me invece. Io davvero ho buttato al secchio il mio vecchio metodo e ho iniziato con uno totalmente nuovo. Però la cosa importante da capire è che non è che durante il corso io insegno il metodo, insegno tantissime tecniche e poi ognuno sceglie quelle che preferisce. Quindi in realtà la domanda da farsi è cos'è che non va nel tuo metodo? Perché in base a ciò che non va nel tuo metodo trovi la risposta. Ad esempio, se hai un problema di analisi e comprensione del testo, che è la parte più importante dello studio, integrerai quelle metodologie. Le altre le lascerai invariate se la tua memoria va benissimo così com'è. Se invece hai un problema di memoria, non ricordi quello che studi, allora integrerai quelle metodologie. Se invece in generale come studi non ti piace, ma proprio dall'inizio alla fine, allora potrai cambiare tutto quanto. Che poi non è detto neanche che uno le metodologie le adotti sempre. Facendo un esempio automobilistico, se tu fino ad oggi sei andato in giro a piedi, ovviamente tantissime cose non le hai potute fare, perché a piedi non possiamo andare ovunque, e io oggi ti insegno a guidare l'automobile, questo non vuol dire che da domani dovrai andare sempre e ovunque in giro con l'automobile. Ma se vuoi andare sotto casa al bar a fare colazione, puoi tranquillamente ancora andarci a piedi.